Oh stupendo, scatenati a casa, apriamo il regalo, infatti lo apriamo, vediamo che cosa scrivono, allora il lupo scrive una medaglia, Serafino una figurina, mi scrive regalo, semplicemente un bigliettino con la scritta grazie ragazzi, perché il preservativo di Onana Davide, ma no, il santino di Allegri scrive Antonio, lì dentro c'è della brillantina o gel per capelli, Stef, Serafino scrive un santino, lo stendardo di San Gennaro, un panzerotto, la figurina di Berraldeschi, le figurine di Volpi e Poggi, i portachiavi del Napoli, vi siete scatenati, i nostri ospiti hanno scritto tutti qua che cosa c'è, lo so solo io, quindi direi che è il momento, chiedo alla regia, chiedo al nostro Steven Spielberg della Bovisa di fare un capolavoro, cosa dice Diablo? Nel regalo c'è il sangue di San Gennaro, e può essere, anch'io per un altro, allora Cantella, aiuto il maestro, però tienilo su che così può zoomare quando apriremo, allora sto aprendo eh, questo sarà, guarda, segui, segui eh, vediamo se c'ho preso, vediamo se c'ho preso, scusami, vedi se c'ho, vediamo, ci avevo preso, ci avevo preso, si può zoomare eh, eccolo qua, perfetto, è il massimo, la maglia ufficiale di Robotka, grazie al mio amico Ciccio Mariello, è una cosa rarissima da trovare, e vi dico la verità, complessibilmente, questo per me è come la corona d'aglio per i vampiri, sì, assolutamente, è la stessa cosa, è la stessa cosa, e questo dovrai portarlo qui in redazione tutti i giorni, assolutamente, e raccomandarti, grazie, allora vediamo che cosa avevano scritto i nostri osti per questo punto, partendo no, non da Cantella, ma vediamo, allora Leo aveva scritto un santino barra cornetto, vabbè, fidatevi sulla parola, non stiamo a zoomare, poi Emanuela una calamita, si aveva scritto? Eh, c'era quasi, quasi, Luca invece ha scritto, vediamo, vediamo, guarda com'è piegato, meglio delle schede elettorali, un cornetto portafortuna, e invece Cantella, no, il santino di Robotka l'aveva preso, l'aveva preso, devo dire la verità, l'avevo preso, e se l'hai preso, e me lo sono preso, adesso ne aggiungerò un altro alla mia collezione, il santino di Kvara Krasic.